Bella a tutti ragazzi eccoci qui con un nuovo video Oggi ragazzi vi farò vedere come portare più di 5 armi nel vostro inventario Ve lo faccio subito vedere venite con me Eccoci qui ragazzi per fare questo glitch dovrete avere una barca e l'arma in più che vorrete portare Salite sulla barca ragazzi vi mettete vicino all'arma molto semplicemente Switchate di posto arrivate fino all'ultimo posto e poi prendete l'arma che vorrete sostituire Cliccate E e il tasto per switchare posto guardate Andate indietro io adesso ho preso il FAMAS al posto del pompa e guardate Scendo dal track prendo il pompa avete visto ragazzi Ho il pompa nell'inventario ma non si vede per vederlo ragazzi basta fare buttare fuori il FAMAS Ed eccolo qui il pompa è sotto il FAMAS E ho portato 6 armi Incredibile ve lo faccio subito rivedere Switcherò SMG con il FAMAS Vado indietro ragazzi Raccoglierò l'SMG e starà dietro al FAMAS Incredibile ho 6 oggetti nell'inventario ragazzi guardate butto il FAMAS guardate Ecco l'SMG Incredibile questo glitch è utilissimo E per oggi è tutto ragazzi se vi è piaciuto questo video vi ricordo di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale Bella